40 anni ha che drago nel mare! Veccio sempre meno, è vero, però se mi fanno lavorare io il pane a casa lo porto. Vanno dai 1200 ai 2000 litri al giorno di gasolio. Non lavoriamo? Eh, niente, preoccupazione. Smarcono la rete dei torni, si mettono la rete delle acciughe e vengono qua a lavorare. Fermo, io lo farei più di un anno il fermo. È andata sempre a scendere per riprendersi, è dura. Facciamo una tonalera grande, sono più spese di materiale, più spese di personale, più spese di tutto e non possiamo pescare. State attenti, sta drenando al mare il veleno, soprattutto l'arsenico. È andata benissimo, oggi è una giornata bene bene bene. Ci hanno dimenticato nel dimenticatoio. Gente di mare, di Alessandro Gaeta. Speciale TG1. Domenica 23.50, Rai 1.